...per chiedere cose sembrate, basta agli agenti del territorio per l'anno, sì alle lezioni E la tua partecipazione a questa iniziativa? Sì, intanto i ragazzi sono il futuro anche in questa città Sono molto più consapevoli e insegnati politici di quello che qualcuno vuol dire La città che voglio rappresentare è una città che ci interessa dell'ambiente che pensa alle rinnovabili come fonte non soltanto di energia alternativa ma anche di economia alternativa Oggi abbiamo organizzato un corteo per lo sciopero globale per il clima, la giustizia ambientale, climatica e sociale E' una data internazionale per un'attività di amici e per un'attività di tempo lì Questo per noi è anche un messaggio da dare ai nostri prossimi rappresentanti E' un'attività di amici che governeranno la giustizia climatica E' un'attività indietro circa la questione climatica ed ambientale E siamo qui per manifestare il nostro dissenso Perché vogliamo smettere con questo inquinamento Cosa vogliamo? Giustizia climatica! E' quando la vogliamo? Ora!